buongiorno e benvenuti a questo video su un argomento astro genealogico molto molto importante ovvero la figura del figlio bastone o del figlio consorte un ruolo familiare spesso lega basato su lealtà e legami d'amore molto molto profonde ma un ruolo capace di incastrare tantissimo le persone di diventare molto 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 vincolante anche nella vita adulta allora iniziamo a parlarne insieme l'importanza dell'ordine sistemico è qualcosa di fondamentale come sappiamo attraverso poi la lettura nel tema natale dei pianeti orizzontali e verticali esistono delle direzioni precise che danno struttura agli alberi genealogici alle famiglie e di conseguenza diventano modello per i singoli discendenti nei nostri temi natali noi abbiamo già il concetto di pianeti orizzontali paritari e di pianeti verticali un esempio mercurio che rappresenta la fratellanza rappresenta le generazioni nate nello stesso periodo quindi fratelli sorelle cugini compagni di classe vicini di casa però ci sono situazioni di reciprocità di parità non c'è qualcuno che ha un ruolo superiore all'altro abbiamo poi anche venere marte nella loro simbologia di coppia però sessuale omosessuale ovviamente non c'entra nulla parliamo nella coppia di parità quindi mercurio venere marte ognuno si occupa dell'altro ognuno è sullo stesso piano dell'altro non c'è qualcuno che deve dare e non ricevere che non può appoggiarsi all'altro diverso il discorso della verticalità che è rappresentata in senso generale genealogico da Saturno Saturno dà proprio il senso magari proprio anche degli anziani del sistema coloro che vengono prima per nascita coloro che hanno la saggezza o l'autorità di chi ha vissuto di più conosce di più e quindi può trasmettere il suo sapere alla generazione dopo che poi magari dovrà attualizzarla perché è cambiata l'epoca perché è cambiato il modo magari la cultura però il senso di passaggio è anche il senso di sicurezza che gli adulti trasmettono a chi è più giovane che è più piccolo quindi già Saturno ha in sé la verticalità abbiamo poi anche il sole e la luna quando noi andiamo a guardare il sole e la luna come archetipo paterno e materno andiamo a indicare una verticalità chi ricopre la funzione genitoriale si deve occupare dei piccoli i genitori sono degli adulti o hanno un'età anche se genitori giovani nel momento che diventi genitore entri in un ruolo sistemico familiare che è di accudimento di mantenimento di guida di protezione di affettività i ruoli non sono sullo stesso piano genitori e bambini sono su piani diversi tutto questo mantiene nel buon funzionamento le diverse generazioni crescono si occupano della generazione dopo che a sua volta cresce si occupa della generazione dopo i modelli familiari nel trasmettersi da una generazione all'altra spesso hanno poi bisogno ovviamente di essere rinnovati se si sono irrigiditi su memorie di dolore di paura devono essere alleggeriti liberati devono essere attualizzati e questo potrà avvenire in maniera dolce o potrà avvenire in maniera più irruente magari con una pecora nera o un riformatore ogni albero ha il suo modo di rinnovarsi a volte avviene con estrema dolcezza e naturalezza questa apertura della mentalità a volte avviene un po' più per scossoni dipende ogni famiglia la sua storia quello che è importante però è il mantenimento dell'ordine sistemico cosa vuol dire ordine sistemico che ognuno occupa il giusto ruolo quali sono sintomi invece di disordine sistemico il disordine sistemico che crea squilibrio a livello familiare si ha tre grandi famiglie di disordine sistemico la prima si verifica un'esclusione nelle esclusioni creano molto squilibrio all'interno delle famiglie una persona che si è allontana perché non viene compresa perché non viene capita o che viene che viene allontanata crea un buco a livello di albero crea un buco a livello di relazione crea un buco a livello affettivo un'altra situazione che crea squilibrio sistemico è quando si assume un ruolo familiare non proprio facciamo un esempio una situazione in cui sono i nonni a crescere i nipoti ma con un ruolo realmente genitoriale non di aiuto ai figli di accompagnamento di babysitter parliamo proprio che un genitore viene meno muore se ne va è così giovane che non riesce minimamente a ricoprire quel ruolo per varie situazioni della vita a volte qualcuno assume un ruolo familiare non proprio situazioni in cui un il fratello o la sorella maggiore devono occuparsi dei fratelli quindi una si chiama genitorializzazione quando ha un bambino un ragazzino è richiesto di ricoprire un ruolo non di normale collaborazione con i fratelli e le sorelle minori che anzi fa bene cresce l'autonomia la responsabilità ma proprio di sostituire un genitore il genitore è morto il genitore ha una grave malattia il genitore ha una dipendenza il genitore è assente sempre in questo caso anche abbiamo disordine sistemico familiare perché qualcuno va a ricoprire pensiamo a volte a situazioni luna saturno in cui l'infanzia è mangiata dalle responsabilità a certe situazioni anche mercurio saturno qualche modo no dove il rapporto di fratellanza pianeta orizzontale entra in contatto con la verticalità l'autorità saturnina è ovvio che un mercurio saturno può riguardare gli studi la mentalità però può anche essere un indice di genitorializzazione quando un fratello o una sorella è richiesto di ricoprire un ruolo non proprio considerato in psicologia abuso dell'infanzia perché ovviamente questa cosa mangia serenità i bambini non devono avere un eccesso di responsabilità devono avere le responsabilità giuste per la loro età non devono essere preoccupati per le questioni dei genitori spaventati per le questioni pesanti della vita i genitori teoricamente perché non sempre la vita lo permette ovviamente dovrebbero riparare i piccoli da tutto questo è ovvio che quando c'è un grave luto o una grave malattia nessuno si ripara a volte però ci sono anche genitori immaturi o molto molto giovani o incapaci e infatti il terzo punto è abbiamo disordine sistemico familiare quando qualcuno si sottrae alle proprie responsabilità al proprio ruolo c'è una separazione e uno dei due genitori scompare è latitante lo si vede di tanto in tanto ma ricoprire un ruolo genitoriale non è una domenica pomeriggio al cinema con il gelato ovviamente no e quindi tante oggi magari sono meno le morti che creano questi squilibri come magari era una volta di più le donne morivano di parto c'erano meno cure quindi la mortalità era più facile nelle famiglie oggi c'è la separazione che magari crea a volte una coppia genitoriale in cui uno dei due scivola un po' via dal proprio ruolo quindi tutte le situazioni in cui ai piccoli spesso perché poi spesso sono i piccoli che pagano ovviamente prezzo di queste cose non viene concessa la giusta protezione dagli adulti del sistema non c'è la giusta responsabilità attenzione entriamo in territori complessi perché qualcuno può non reggere la responsabilità pensiamo a certi rapporti sole nettuno ma anche a volte sole giove quindi questi padri o questi genitori molto idealizzati che vanno nel mondo l'archetipo di zeus è il figlio che guarda il padre che reclama lo sguardo del padre ma il genitore magari non guarda questo può avvenire ovviamente sia per l'archetipo materno che paterno ovviamente ma però per dire sono figli che crescono in fretta dove c'è un bambino che deve ehm compensare un'assenza genitoriale un'assenza del sistema che deve farsi carico di gravi responsabilità pensiamo una volta a quando i bambini se moriva un genitore andavano a lavorare a sette anni otto anni nove anni la vita adulta irrompeva nell'età dell'infanzia la personalità ne viene completamente plasmata una figura particolare il disordine sistemico familiare che è quella che mi interessa affrontare in questo video è quella del figlio bastone figlio consorte a volte il figlio preferito incastrato anche in questo ruolo a volte abbiamo il figlio unico a volte abbiamo un figlio scelto nella fratellanza per rimanere accanto a uno o due genitori spesso uno il figlio bastone figlio bastone ho scelto una foto allegra che il figlio bastone spesso nell'infanzia è un figlio felice ha un rapporto con un genitore simbiotico domanda da un milione di dollari che oggi possiamo fare per esempio se c'è una coppia separata i bambini dormono nel lettone con i genitori o anche se la coppia è separata hanno la loro cameretta la loro autonomia il loro spazio faccio un esempio e non è che solo questo è un indicatore il figlio bastone è un figlio che rimane sempre accanto a un genitore quando scatta la figura del figlio bastone quando abbiamo un genitore spesso che rimane da solo a crescere il figlio questa signora può essere stata lasciata da un uomo può essere stata una ragazza madre il suo compagno può essere morto il suo compagno può esserci ma come un guscio vuoto inesistente in realtà la famiglia è a due anche se le persone dentro casa sono tre e quindi viene da sé che in un legame di profondo amore si trovi consolazione balsamo sollevamento amore questa relazione però non è pari abbiamo un adulto e un bambino mentre il bambino non riesce a distinguere la questione dei confini ancora saturno è ultimo pianeta del settenario ultimo visibile occhio nudo da qua in poi c'è altro abbiamo però un adulto un adulto che per magari problemi personali fragilità mancanza di felicità a volte semplicemente solitudine si aggrappa a questo amore meraviglioso che è un figlio e lo tiene a sé tutto questo però chiude la relazione vi consiglio per esempio di cercare su youtube il video the cord dura sei minuti che fa capire come quello che nasce all'inizio come una bella relazione nell'adolescenza nella giovinezza inizia essere un filo che tira molto e poi nella vita adulta è un filo che può soffocare i bambini hanno profonde lealtà familiari lo sapete vedendo i miei video e quindi i bambini non si sottraggono a questo tipo di relazioni che ripeto non sono più sopra sotto adulto bambino la funzione genitoriale è amare e far crescere i figli affinché possano vivere la loro vita nella migliore maniera ma questo vuol dire che anche tu devi saper vivere la tua vita come genitore come adulto nel modo migliore quindi non si può chiedere a un bambino di mettere il confine saturnino deve essere il genitore a saper tagliare questa è una grande funzione di saturno no nell'albero genealogico saper tagliare vuol dire vai all'università lavori trovati un appartamento poi magari io ti aiuto nel momento di transizione ma lo scopo è tu sei un adulto realizzato io sono un adulto realizzato ognuno ha la sua vita autonoma ma ci amiamo tantissimo la vita appunto come dicevamo spesso complica le cose contro la volontà delle parti è facile scivolare nella situazione di figlio bastone quando ci creano queste situazioni indissolubili lo sguardo dell'uno è sempre posato sull'altro uno specchio ci sono io ci sei due siamo complici contro il mondo difficile ostile cattivo doloroso sono scissioni difficili da fare come li si riconosce figli bastone a volte non riescono ad avere proprio una propria vita autonoma non hanno relazioni durature non hanno convivenze matrimoni non hanno figli oppure vivono sempre vicino e a volte il rapporto di coppia che anche riescono ad avviare nel tempo si affatica per questa vicinanza con il genitore un figlio diventa quindi bastone per il genitore fin dalla primissima età infatti alla fine di questo video io vi farò vedere una carta dei tarocchi molto saturnina che è l'eremita l'eremita un anziano ma in realtà descrive benissimo il figlio bastone l'eremita è potremmo dire il figlio bastone alla fine della sua vita è bastone è sostegno è aiuto ma in questo ruolo può invecchiare può farsi scivolare via la vita può accorgersi solo quando il genitore manca e se vedete quel cortometraggio de cord dura sei minuti veramente guardatelo quando un figlio rimane così tanto avvinghiato a un genitore quando il genitore muore è un disastro è un vuoto immenso la vita perde significato spesso sono persone che non hanno una propria famiglia è ovvio che il fatto di non avere una propria autonomia implica una grande grande rinuncia alla propria vita personale attenzione il genitore solo il genitore che lotta da solo contro la vita il genitore vedo il genitore separato e abbandonato alla genitorialità da solo è un genitore molto potente possiamo quindi avere anche una luna scorpione una luna in rapporto a plutone un intreccio che nell'infanzia attenzione la luna può essere ricoperta anche da un padre ripeto non usciamo dagli stereotipi che abbiamo sulla sulla astrologia luna è chi ricopre l'archetipo materno se l'ha ricoperto il padre per varie vicene della vita e noi vediamo una luna plutone può essere il padre che ha questo rapporto simbiotico figlio bastone la mamma magari essere morta essersene andata aver abbandonato quindi anche qua usciamo dagli stereotipi noi quando vediamo la luna dobbiamo indagare la vita delle persone non siamo più in una struttura patriarcale in cui tutto è dato per sottinteso luna è solo femmina e solo maschio quindi questi genitori che scivolano portano la parità nella relazione figli con i figli sono spesso genitori che anche non sono realizzati attenzione quando si parla in consulto con i figli bastone non sono territori facili sono territori in cui spesso il cliente si ritrae subito può essere disturbato dalle ipotesi che l'astrogenalogista fa può vivere tutto questo come un'offesa al genitore siamo in territori molto molto delicati infatti per questo queste situazioni hanno bisogno di approcci terapeutici con uno psicologo non con un astrologo l'astrogenalogista vede mette il semino consiglia il cammino però ovviamente non si può sostituire no il punto qual è il punto è che questi genitori si creano alibi perfetti per tenere a sé i figli raramente c'è consapevolezza in queste situazioni immaginiamo un rapporto luna plutone siamo in territori abissali inconsci profondi siamo in territori in cui non si vede facilmente quello che c'è tanto meno lo si razionalizza come si nasconde la coppia del figlio bastone con il suo genitore si nasconde dietro ad alibi di salute il genitore fragile malato di solitudine frasi terribili che a volte le lune plutone lune scorpione dicono sei tutta la mia gioia sei tutta la mia vita se te ne vai muoio ho solo te al mondo frasi così possono legare in maniera folle sono sintomo di qualcosa quando andiamo a vedere l'ascendente il rapporto ascendente dodicesima il progetto senso perché sono stato concepito qual è il mio ruolo per l'albero ecco entriamo in quelle situazioni in cui il ruolo di appoggio o il ruolo no di sostituzione di qualcuno che qua manca può farsi forte quindi si può nascere per quello ovviamente uno degli scopi dell'astrogenologia ma anche proprio di qualsiasi percorso di conoscenza e consapevolezza è vedere per allentare vedere per mettere un po' di ordine vedere per cercare di equilibrare un po' una situazione che non vuol dire abbandonare un genitore vuol dire la normale autonomia che una persona ha dalla sua famiglia di origine quando diventa adulta e si fa la sua vita è ovvio che figlio bastone non è la persona di 60 anni che aiuta il genitore di 90 lì non siamo in una situazione di figlio bastone lì siamo in una normale situazione di accudimento in cui un figlio ormai adulto strutturato con la sua vita aiuta il genitore quindi attenzione questa è una situazione che si genera durante l'infanzia la primissima adolescenza simbiotica è capace di bloccare la vita non generalizziamo non è che ogni genitore separato ogni genitore vedo ogni genitore che è ragazza o ragazza madre ragazzo padre vive questa cosa col proprio figlio ci sono genitori che sono da soli e sono bravissimi a fare i genitori a insegnare l'autonomia ai figli non tutti scivolano nella consolazione del figlio l'anima incarnata no attenzione anche dove ci sono questi eccessi di enfasi spesso abbiamo dietro se osserviamo luna scorpione luna plutone i figli devono andare nel mondo non devono vivere attaccati a noi sopra di noi non devono rimanere nella casa vedere di noi non devono sentirsi responsabili della nostra infelicità questo anche disordine sistemico e quando la coppia genitoriale ha dei problemi che portino a una separazione a un tradimento a conflitti sono questione dei genitori che non devono ricadere sui bambini i bambini sono bambini non hanno la maturità per reggere le preoccupazioni se devono crescere troppo in fretta certo che ce la possono fare è ovvio che troviamo dei bambini dicevamo prima una volta ma anche tuttora bambini che a otto anni si occupano di tutto il bambino può farlo però gli viene strappata l'infanzia la serenità i bambini hanno diritto essere immaturi sono bambini pensiamo anche a mercurio l'eterno fanciullo no l'archetipo junghiano gli studi di hilman è normale a 13 anni essere eterno fanciullo non è normale esserlo a 40 ma ogni età ha diritto alla sua innocenza tutto ciò che strappa il diritto all'innocenza dell'infanzia il diritto all'immaturità dell'adolescenza è abuso a volte non ci si ripara c'è una malattia c'è un luto c'è una brutta separazione però spesso i genitori possono fare da filtro fra le gravità della vita e i loro bambini quando noi guardiamo una signora o un signore che scivolano in questa cosa dobbiamo qual è il consiglio perché ovviamente dipende se in consulto ti arriva un figlio bastone che ha 40 anni e dice non ho mai avuto una relazione non ho mai convissuto è ovvio che qua vuol dire che ci sono dei vincoli di fedeltà ciechi ancora attivi non posso andarmene non posso diventare adulto perché diventare adulto è andarsene è ovvio che ci sono delle situazioni che creano alibi si rimane a vivere con un genitore come dicevano per una malattia per una fragilità per motivi di denaro il denaro è il grande alibi in tantissime situazioni disequilibrate nelle famiglie perché ovviamente il denaro si unisce all'abbondanza e l'abbondanza è gioia di vita e quando si ha gioia di vita uno se ne va a fare la sua vita questo non allenta i vincoli di amore coi genitori di affettività di confidenza di proprio vicinanza ma nella normale autonomia delle persone il figlio bastone si vede ipotecato su questa relazione il suo futuro io credo che ognuno di noi in famiglia può avere una persona che è sempre rimasta vicino ai genitori questo non gli ha permesso di fare il lavoro che voleva costruirsi la famiglia che voleva avere una libertà mentale come la voleva i genitori quindi non si dovrebbero mai appoggiare ai figli per compensare la loro solitudine la loro infelicità non dovrebbero mai confidare le proprie preoccupazioni ai figli a un bambino di nove anni non devi raccontare che non sai come pagare il mutuo perché un bambino di nove anni si terrorizza di fronte ad ammissioni così perché il genitore viene meno nel suo ruolo sole luna saturno verticale di protezione di sicurezza di saper creare un habitat che è l'infanzia in cui un bambino cresce tranquillo gli adulti se sono in difficoltà perché ovvio che qua parliamo queste situazioni si generano quando gli adulti sono in difficoltà non è ai bambini se ci si deve appoggiare ci si appoggia agli amici ai familiari al partner a uno psicologo se c'è un adulto che non ha amici che non ha familiari che è solo è un adulto che evidentemente ha a sua volta delle ferite perché ovviamente nel normale sviluppo della personalità c'è anche il saper socializzare mantenere delle relazioni nella famiglia nella 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 società poi non servono mille amici ne basta uno è una cara amica un caro amico però questa è una situazione molto frequente che si trova in consulto negli alberi ripeto dove una volta si creava per paternità non riconosciute o vedovanze di mamma di papà oggi è più frequente nelle separazioni e purtroppo spesso nelle separazioni un genitore scivola via e dove un genitore scivola via uno rimane e rimane con più difficoltà spesso anche economiche perché spesso chi scivola via da ruolo genitoriale anche economicamente scivola via questo genera grandi ferite nei bambini che si sentono rifiutati e qua invece entra venere autostima sentirsi degni d'amore venere sentirsi degni d'essere scelti però questo è un altro video eventualmente su venere l'autostima perché anche quello è un territorio in mezzo possiamo avere il figlio bastone come dicevamo magari approfondiamo ancora un attimo che è figlio unico e quindi proprio qua la coppia diventa proprio totale possiamo avere un figlio bastone nella fratellanza spesso uno in una fratellanza qua ovviamente sono le mie foto di una volta quindi il numero dei figli è numeroso qua ne abbiamo sei con questa mamma quindi una situazione molto diversa da questa no di questa donna però spesso un figlio rimaneva a disposizione del sistema familiare dei genitori spesso c'era una figlia che magari non si sposava e rimaneva a vivere con i genitori rimaneva sempre vicina vicina geograficamente fisicamente come disponibilità e questa cosa crea squilibrio all'interno della fratellanza attenzione quando abbiamo una situazione di squilibrio nella fratellanza perché magari abbiamo tre fratelli quattro fratelli sei fratelli e uno solo si occupa per esempio di rimanere sempre accanto a un genitore o per tutta la vita accudisce o c'è un genitore malato che segue no abbiamo i fratelli che quando muore il genitore dicono ok ti prendi tu la casa perché hai visto dei genitori altro squilibrio ci vuole sempre divisione equa nella fratellanza sia a livello affettivo sia a livello di responsabilità sia di accudimento sia patrimoniale quindi quando abbiamo in psicologia si parla ma anche hellinger nelle costellazioni di contabilità dare avere del sistema familiare nella fratellanza salta la parità sia se uno fa molto più degli altri ma anche se riceve più degli altri quindi si somma squilibrio a squilibrio in qualche modo quindi il figlio bastone può essere all'interno di una fratellanza oppure figlio unico attenzione a volte il figlio rimane molto vicino al genitore più del dovuto squilibrando la sua vita sacrificando se stesso la propria libertà e le proprie scelte perché qua c'è un genitore sentito come violento minaccioso e il bambino funge da assorbire gli urti spesso abbiamo forti valori bilancia ascendente bilancia situazioni particolari del tema natale in cui si vede qualcuno che nasce proprio con la funzione di diplomatica di armonizzare di prevenire i conflitti di attutirli quando scattano l'ascendente bilancia spesso ha questi ruoli poi bisogna vedere cosa tocca che aspetti fa l'ascendente bilancia no perché per esempio se è quadrato a un saturno un ascendente bilancia no c'è proprio un'autorità sentita come castrante quadratura violenta forte tesa che va proprio a ricadere su un ascendente bilancia che porta alla conciliazione spesso sono figli che a volte sono stati concepiti proprio sempre progetto senso con questo scopo no e a volte quindi sono figli che proteggono maschietti femminucce non importa quindi possiamo avere situazioni in cui uno dei due genitori non per forza il padre è violento beve alza le mani è psicotico insomma tante situazioni in cui il bambino si trova a dover difendere un genitore ma se un bambino deve difendere un genitore vuol dire che un genitore che non riesce a difendere se stesso e tanto meno il figlio perché ovviamente di fronte a situazioni di pericolo è l'adulto che deve difendere il piccolo non viceversa se un adulto lascia il piccolo in una situazione pericolosa è un adulto che ha in grande difficoltà che non riesce a fare l'adulto quindi vi ricordate i tre motivi di disordine sistemico il terzo venire meno al proprio ruolo e il proprio ruolo è anche di protezione quindi quando un genitore non riesce ad attivare la protezione e si mette in situazioni di con persone violente pericolose abbiamo un adulto che ha molte difficoltà e avrebbe bisogno di aiuto ovviamente no cosa succede ai bambini che diventano adulti in queste situazioni allora come abbiamo già accennato sono bambini che si sacrifica che mettono da parte se stessi i propri desideri le prospie realizzazioni spesso non entrano neanche in contatto con quella parte di sé per rimanere accanto c'è amore ovviamente in tutto questo ma è un amore vincolante è un amore sacrificante un amore quindi tossico dipendente e questa cosa può creare anche nella vita adulta immaturità sentimentale nel farsi una propria vita può portare problematiche fisiche sovrappeso sottopeso sommatizzazioni di altro tipo possiamo avere problemi legati all'autostima proprio perché non si vive un normale percorso di maturità e di crescita che implica uscire dalla famiglia di origine andare nel mondo essere scelti dal mondo essere vista e confrontarsi col mondo può dare quindi insicurezza disistima ansia molta paura a volte sono persone che possono diventare rigide per paura e quindi tutto ciò che non conosco mi diventa nemico se abbiamo poi avuto un genitore che si è trovato solo in difficoltà e non è stato mai aiutato non ha mai trovato aiuto è ovvio che la visione del mondo che questo genitore trasmette al bambino è di assoluta insicurezza il mondo è pericoloso il mondo è brutale il mondo è cattivo fai attenzione al mondo e quindi un bambino cresce dicendo non posso uscire dalla mia comfort zone non posso uscire da questa relazione perché fuori chissà cosa accade e però non andando mai fuori nel mondo non misurandosi mai diventi un adulto che è pieno di paure che è pieno di ansie che non conosce ciò che è fuori non esce mai dalla comfort zone di questa relazione simbiotica e quindi diventa un adulto che si rigidisce se esce quando i bambini hanno maturità troppo forti e sono sempre irreprensibili spesso dietro ci sono situazioni che li obbligano lì per vigilanza lì per controllo gli adulti guardano i bambini e non i bambini guardano gli adulti per quello spesso i rapporti sole nettuno ma a volte anche sole giove a volte quindi non stiamo dicendo che tutti i sole giove siamo lì ma attivano genitori che sono sfuggiti che non hanno guardato loro i bambini ma il genitore quando è assente scivola via viene idealizzato agoniato amato e viene guardato quindi si inverte la direzione dello sguardo sapete che anche quei tarocchi genealogici la direzione dello sguardo è importante coi pianeti saturno verticale mercurio orizzontale nelle foto guardiamo sempre gli sguardi sguardo è del pianeta dei tarocchi delle fotografie chi guarda chi in una famiglia siamo sicuri che gli adulti guardano i bambini e non viceversa ovviamente non è che tutto questo sempre si verifica un'altra foto una donna è realizzata è felice la sua vita sta bene non è che l'essere in due innesca inevitabilmente il problema saprà mandare il suo bambino per lo diventare in questo caso un maschietto un adulto un uomo che diventa un uomo adulto e vive la sua vita pur rimanendo sempre molto legato alla sua mamma per esempio in queste situazioni abbiamo come detto spesso genitori in difficoltà spesso economicamente i problemi economici sono fra i più assillanti e faticosi che può avere un adulto soprattutto se ha bambini perché ovviamente le conseguenze dei problemi economici ricadono inevitabilmente sui figli sapete che io ho una visione psicogeneologica positiva del denaro i sistemi familiari in cui c'è denaro a disposizione vivono più sereni la mancanza di denaro questa non rende più bravi rende spesso più preoccupati una famiglia in cui il denaro c'è e ha sufficienza anche da risparmiarne è una famiglia sempre più serena che sia di due persone di tre persone che sia una persona sola il denaro tendenzialmente toglie le preoccupazioni non abbruttisce le persone le rende più serene abbiamo anche un grande indicatore per capire se un genitore nel caso sia solo e scatta un figlio bastone se è un genitore che è sempre solo quando abbiamo un genitore che resta vedovo dopo una separazione e non riesce mai a rifarsi una vita allora è ovvio che se è un adulto sereno e contento che quella cosa la sceglie liberamente non c'è nessun problema se abbiamo un adulto che sta bene da solo e sceglie l'autonomia del suo cammino non c'è problema per i figli il problema scatta quando il genitore è triste soffre la solitudine solitudine autonomia sono le cose molto diverse e quindi un figlio se non se ne può andare perché sa che la compagnia migliore che questo genitore può avere è la sua e quindi questo incastra invece se abbiamo un genitore che anche non ha una vita di coppia ma amiche amici ha una bel lavoro vive nella sua vita bella pienamente il figlio se ne potrà andare quindi i figli non devono mai compensare le preoccupazioni i problemi le frustrazioni le infelicità la solitudine dei genitori l'astrologia l'astrogenealogia devono avere questi usi che sono gli usi in usi interessantissimi del sistema familiare andiamo a vedere se un aspetto si replica se questa bambina ha per esempio una luna trigona plutone quindi è meglio averla quadrata perché con la quadratura è più facile che uno sbotti o veda o sia insofferente invece il trigono ha che meraviglia e intanto t'avvinghia e la signora ha la luna in scorpione o la luna in ottava c'è una ripetizione di modello familiare madre figlia siamo all'interno di una ripetizione del modello familiare quindi confrontiamo anche i temi natali della bambina della mamma e delle due nonne che modello femminile della linea arriva le donne sono abituate a trovarsi sole in difficoltà nella vita ed appoggiarsi ai figli è un modello familiare ripetuto o nasce per la prima volta questo modello familiare le ripetizioni degli aspetti attenzione non bisogna avere lo stesso aspetto spesso sono le affinità astrologiche perché se noi abbiamo lei anche un sole nettuno quindi possiamo immaginare che dove le è andato via un padre la madre ha dovuto sopperire quindi magari affaticarsi quindi il tema natale ce lo può dire mille modi diversi lì solo ovviamente con la pratica poi si imparano a raccogliere i semini anche il figlio preferito inserito perché allora il figlio preferito sembra una cosa positiva no perché salta quell'equilibrio nella fratellanza di cui parlavamo prima mercurio si trova in crisi non è pari c'è uno che ha un ruolo diverso per i genitori o per uno dei genitori porta squilibrio nel sistema il figlio preferito ed è una situazione molto frequente censurata ombra siamo all'interno di quei sentimenti ottava casa che non si possono dire vengono censurati non stanno bene possono ferire si tacciano ma tutti li sanno o se non li sanno li avvertono in maniera sottile sotterranea no quindi il figlio preferito può essere un figlio che proprio perché si trova ricoperto da questo filone d'oro da questo ruolo meraviglioso e resta incastrato in questo ruolo e quindi crea una un filo così speciale che poi non si spezza e quindi il figlio non preferito se ne può andare a fare la sua vita tranquillo il figlio preferito no perché ovviamente su queste cose poi si costruisce l'identità personale il mito familiare e si fa tanto si mette tanta roba a livello psichico su queste cose no e quindi anche il figlio preferito a volte può essere un ruolo un po scomodo un po avvigniante situazioni invece in cui sempre a livello di identità le situazioni in cui un bambino cresce sentendosi molto utile bambino genitorializzato devo aiuto fa un ruolo genitoriale e cresco fratellini sorelline oppure appunto divento figlio consorte no sostituisco la figura che non c'è o figlio bastone sono sempre di appoggio ai genitori e non riesco a fare una mia vita per quello o ne vengo o la mia vita viene molto sacrificata anche se riesco a farmela sono tutte situazioni in cui qualcuno si sente molto utile indispensabile insostituibile questo a livello personale ovviamente fa identità e si inizia ad associare amore e utilità queste sono settori territori molto venere in cui l'autostima ha l'errore di dire vengo amato solo se sono utile vengo amato solo se sono indispensabile se non c'è un rapporto di utilità la relazione crolla si svuota non sono nessuno quindi attenzione se in queste relazioni o anche in altre relazioni che noi abbiamo con gli altri questo può capitare anche nel lavoro io faccio assoluta identità in base alla mia utilità per quel sistema sistema lavoro sistema amicale sistema familiare perché sono situazioni in cui l'identità se non era ancora rafforzata se c'erano già delle insicurezze può entrare in un circolo vizioso molto molto particolare in cui io valgo io so chi sono io sono degno di amore solo se sono utile indispensabile e siamo anche qua all'interno di una situazione squilibrata perché invece l'amore per esempio venere marte io ti scelgo per quello che sei non per la tua utilità ma anche nei genitori io amo mio figlio per quello che è non perché mi compensa i miei problemi e via dicendo sempre nella situazione poi in cui un bambino fa da tampone a situazioni in cui c'è un genitore che su cui viene proiettata la negatività l'archetipo dell'orco il genitore che beve violento cattivo che trascura tutti che non si occupa che non fa felice la mamma e quindi il padre diventa il grande lupo no attenzione si crea il triangolo di kartman un triangolo in cui c'è la vittima il carnefice e il salvatore nelle famiglie spesso anzi bisognerà fare un video solo su questo argomento nel momento che io ho qua un padre carnefice perché è cattivo perché tradisce la mamma perché non non beve perché se ne va sempre e la lascia sola perché la mamma piange quando papà le dice delle cose e quindi il bambino si incastra nel ruolo del salvatore figlio bastone spesso no devo imparare la mamma dal papà spesso anche qua luna plutone sole nettuno chi più ne ha più ne metta ma anche qua c'è un adulto che non riesce a uscire dal ruolo di vittima e ha bisogno di un figlio che faccia il salvatore quindi anche il ruolo del carnefice è interessante perché sul carnefice si proietta tutta la negatività del sistema che diventa a questo punto tossico comunque questo è un altro discorso volevo solo farvi vedere per concludere i tarocchi genealogici allora è ovvio che i tarocchi genealogici si può utilizzare qualsiasi mazzo personalmente uso o i tarocchi di marsiglia o i rider white tra virgolette poco importanti quale usate per esempio il figlio bastone è ovvio che qua non è un bambino figlio bastone è un ruolo che spesso scatta fin dall'infanzia dall'adolescenza però è bambino nel senso di quella eccesso di maturità di responsabilità un ruolo oltre le normali funzioni che si assume un bambino quando diventa salvavita per un genitore e quindi anche se ha otto anni è la carta dell'eremita quella giusta è bastone di qualcuno porta luce gioia la frase di prima molto plutoniana molto luna plutone luna scorpione luna ottava tu sei tutta la mia gioia tu sei tutto il mio mondo e senza di te non vivo e tu sei tutta la mia vita cosa farei senza di te aiuto come se ne fa andare un bambino no quindi i bambini non sono bastoni non sono è ovvio che poi noi non abbiamo nient'altro di più dei nostri figli ma questo non dobbiamo farglielo pesare non dobbiamo fare un laccio è ovvio che ognuno di noi che ha figli io Anna Jacopo non c'è nulla che amo più di Anna Jacopo non c'è nulla ma questo non vuol dire che loro devono rimanere lì a farci la luce quindi la figura dell'eremita se esce in una stesa in cui si sta lavorando per esempio con le figure genitoriali figli ed esce al posto del figlio la carta dell'eremita si può essere anche che uno la guarda e dice ho avuto un'infanzia solitaria oppure può essere un bambino che ha vissuto una malattia mi è capitato da poco no era una persona che nell'infanzia aveva passato molti periodi in ospedale questo gli aveva fatto saltare un po' il tran tran della scuola aveva vissuto la solitudine sapeva che gli amici erano fuori si vedevano ed era chiuso possono esserci tante situazioni ma fra le tante situazioni può esserci anche un figlio bastone un figlio consorte che prende quindi i ruoli che non gli appartengono o accudire i fratelli fare da ponte fra i genitori attutire gli urti fra i genitori dei loro problemi sentimentali stare vicino a un genitore fragile solo infelice insomma sostituire il padre o la madre che se n'è andata e fare figlio consorte le veci in tutti i livelli tranne quello sessuale ovviamente non siamo all'interno di discorsi di quel tipo altra carta è quella la carta che più vincola e in molte carte dei tarocchi dalla figura dell'appeso cascano anche le monetine no quindi un senso anche di perdita la perdita è anche del superfluo in certe letture dei tarocchi ma qua siamo nei tarocchi genealogici proiettivi quindi non siamo all'interno della normale iconografia dei tarocchi spesso le persone quando vedono questa carta la prima cosa che sentono è il senso di essere legati di non potersi muovere liberamente di dover stare in una posizione scomoda quindi spesso la lettura di questa carta della persona è qualcuno della famiglia che si sta vedendo in quel momento che ha un ruolo scomodo che non può anche volendo cambiare posizione che non se ne può andare è legato alla caviglia no e alle mani poi dipende è perché ovviamente i tarocchi poi disegnano le cose però scegliete un mazzo e lavorate con quello proprio per imparare anche a usarlo bene insomma no quindi è una posizione quella dell'impiccato dell'appeso scomoda vincolata non libera in cui l'ha messo qualcuno non ti leghi con le mani dietro la schiena da solo quindi perché ovviamente c'è sempre se noi abbiamo una situazione scomoda e ce la siamo scelta per un motivo anche ci sta se c'è un fine ma uno non si lega da solo le mani dietro le spalle un bambino non ha modo di difendersi da queste dinamiche familiari ne viene mangiato vivo ce ne viene inglobato senza rendersene conto te ne accorgi a 40 anni a 50 anni quando vedi la vita degli altri che ha più libertà che ha più cose e tu sei lì magari con un genitore anziano che ami alla follia perché spesso dietro c'è l'amore e quando questo genitore muore è il vuoto più assoluto quindi anche l'eredità finale di questi figli bastone è spesso spietata e dura e crudele perché è di una solitudine che non è all'inizio della vita e posso riscrivermela dieci volte alla fine della vita se siamo intorno al secondo ritorno di saturno insomma siamo in territori in cui rimanere solo dopo il secondo ritorno di saturno questa è molto dura si vede tutto il re è nudo come dico sempre ed è spietata all'analisi qua si vede tutto c'è la saggezza di vedere tutto ormai c'è la comprensione degli eventi qua per certi versi potenzialmente ci si può muovere di più qualcuno può ancora venire a tagliare le corde no qua siamo un po più avanti niente questo video ha parlato del figlio bastone sicuramente mi sono dimenticata di dirvi tantissime cose perché avevo preso tanti appunti e non li ho mai guardati adesso guarderò gli appunti che avevo scritto e dirò ecco non ho detto questo non ho detto questo non ho detto questo e ma insomma non importa così doveva andare grazie mille a presto al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti